Oggi siamo qui con Mauro Giancaspro, responsabile IT e Digital Transformation di ENAV. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Qual è il ruolo dell'IT oggi nel portare competenze algoritmiche a livello industriale e a valore all'interno della propria azienda? Il ruolo dell'IT è quello di essere un digital business partner che deve garantire una transizione verso un ecosistema digitale che metta, semplifica e favorisca l'interconnessione tra persone, dati e macchine. Sostanzialmente la realtà algoritmica di per sé va attraverso la sinergia tra quelli che sono i requisiti e gli obiettivi di business alla declinazione e alla sua implementazione con le tecnologie digitali. Ecco, è il ruolo dell'analisi. Come può supportare il business delle aziende? Beh, la gestione e l'analisi dei dati certamente è chiave ed è centrale nel disegno e nella sperimentazione di nuove soluzioni che possano ottimizzare i processi produttivi e certamente anche aumentare i livelli di competitività del business. Ecco, queste nuove tecnologie come l'artificial intelligence, il machine learning, come possono essere portate all'interno dell'azienda ai fini proprio strategici per il business aziendale e in particolare nella sua azienda, in ENAV? Beh, ENAV, quale fornitore dei servizi per navigazione aerei in Italia, gestisce il traffico aereocivile in Italia gestendo 1.800.000 velivoli l'anno, 365 giorni H24 e quindi assicurare e garantire sicurezza e puntualità del volo è assolutamente centrale per noi. Quindi come infrastruttura critica noi sostanzialmente focalizziamo il massimo dei nostri sforzi a innalzare il livello di safety e assicurare la business continuity delle infrastrutture che forniscono i servizi per navigazione aerea. Quindi da questo punto di vista stiamo sperimentando tecnologie appunto di advanced analytics proprio per ottimizzare i processi di gestione dell'operatività di un volo appunto per aumentare i livelli di safety nelle operazioni che eroghiamo attraverso i nostri 4 centri di controllo d'aria e i 45 aeroporti e da punto di vista di gestione dei processi manutentivi delle infrastrutture di gestione del traffico aereo e quindi dei sistemi di controllo del traffico aereo stiamo implementando e sperimentando innovativi processi e modelli di predittiva in termini di manutenzione per poi evolvere a modelli più evoluti di prescrittiva autonomus. Ecco, le faccio l'ultimissima domanda. Mi dà una sua definizione di analytics? Analytics è un processo di gestione e analisi dei dati che sostanzialmente permette di ottimizzare processi gestionali, decisionali e nello stesso tempo dà possibilità alle aziende di aumentare l'efficienza operativa e sicuramente in alzare i livelli di competitività. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.